Grazie a tutti. E quindi ci vuole un'organizzazione diversa, l'organizzazione diversa è fatta in questo modo, esiste la Kafka, poi esiste una prima cerchia di aziende partecipate dalla Kafka, queste aziende non sono altro che uno spin off finalizzato, questo spin off finalizzato ha poi in seconda battuta tutta una serie di altre interlocuzioni. La nostra interlocuzione è un'interlocuzione che valorizziamo dall'inizio e manteniamo in questo modo perché il fatturato sui vostri clienti rimane sulla GM3 e non entra in Kafka avendo poi il riconoscimento esterno di quelli che sono commissionati. Per cui è uno statuto in qualche modo privilegiato che vi viene riconosciuto proprio sulla base di questo iter storico di una serie di situazioni che sono intercorse e che quindi vanno a generare questo rapporto aperto di dare avere e che quindi intendiamo valorizzare. Quindi voi siete tra i pochi, forse gli unici, che possono venire, fare domande su operazioni e avere delle risposte precise sull'assetto macchina piuttosto che sulla tecnologia perché gli altri vengono rinviati sistematicamente con metodologia stretta. Grazie a tutti! ! 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